Cominciamo con la carta dei direttanti, i primi a salire sull'ottagono fronteranno la formula Nel regolo blu, combatte per il team Legio Sperifon, Bergamo, l'avocchietta e altemutto di Luca Pioncorello Il suo avversario ha un'esperienza leggermente superiore per il suo terzo match di MMA Combatte per l'Istu Emma Toro e con un record professionale di una vittoria e una sconfitta Diamo il benvenuto a Daniele Crusciallo Ricordiamo agli spettatori che quest'ora incontro avrà un luogo con la formula dei 2 da 1 per 3 minuti Signore e signori, buon match a tutti, signore e signori, buon partito Signore e signori 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 muoviti di più Luca muoviti portati i pugni guardi alta portati i pugni stacca con la tessa respira 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 va benissimo cambia cambia guardalo sulla guardia cambia rispondi quando mi metti vai entra con un pugno entra con la sequenza bravo ok dai vieni vai ancora più decisi più decisi clinch metti il ginocchio e ancora ginocchio e vai ancora ancora Luca Angelo metti dentro le braccia giralo e tu alla rete giralo ora sin occhio si stancati si vai 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 ancora vai 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 cambia respira 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 vai vai muoviti a destra e a sinistra diretto a sinistra come prima dai dai lavora cose semplici cose semplici su con le mani sulla guardia dai manca poco un minuto tu un minuto su le mani non ti attacca subito Luca forza rotina va bene muovi la testa rotina ancora sulla guardia sulla guardia muovi dunque le mani non ti attacca sinocchio eh usali dai uguale ginocchio eh dai dai ancora ginocchio dai tu esci esci luca usa i calci luca le mani giuro si luca le mani anche adesso ora ora dai ginocchio vai anche tu anche tu dai dieci dieci moltante bravo dai 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 ginocchio ancora ginocchio sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Grazie. 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 Via, via, via Luca. No, ghigliottina. Difendi. Giù con ste gambe. Giù con ste gambe. Portalo giù. Giù con ste gambe. Esci da lì, esci da lì. Bravo. Grazie. 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 Vince per sottomissione alla fattispecie con chigliottina, nell'angolo rosso, Daniele Pusciallo. la previazione per l'Effetto Margas da uno dei nostri sponsor per la Caligom il dottor Luca Pesanesi il dottor Luca Pesanesi il dottor Luca Pesanesi per la sua volta che abbiamo pregato con una parga commemorativa del nostro maestro Francesco Calonico grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti